Oggi siamo qui con Melody, poiché ha avuto una sintomatologia gastroenterica acuta, ha mangiato qualcosa probabilmente da sotto il tavolo o in cucina e subito gli ha creato un po' di disturbi alla pancia. Cosa fare in questi casi? Un'alimentazione con delle proteine, ad esempio idrolizzate piuttosto che dei carboidrati resi altamente digeribili attraverso il processo di estrusione sicuramente vanno a limitare lo stress intestinale. I nutrienti quando arrivano all'interno dello stomaco o del primo tratto dell'intestino vanno incontro a dei tagli fatti da degli enzimi che vengono prodotti dalla mucosa. Questi enzimi se facilitati nella loro azione attraverso proprio l'alta digeribilità delle materie prime facilitano l'assorbimento dei nutrienti e quindi vanno anche a limitare quei processi di infiammazione che sono già presenti a livello della mucosa intestinale o dello stomaco. Ecco che per questa micina possiamo andare a somministrare un'alimentazione dietetica specifica proprio per andare a favorire l'assorbimento di tutti i nutrienti e quindi accelerare quello che è il processo di guarigione. Quindi Melody sei pronta per andare a mangiare?